Intro Bentornato Goodyear, bentornata Ora ti andrò a spiegare una sezione del pannello di controllo che parla di notifiche La sezione nello specifico ha il nome Icone Area di Notifica Si trova nella zona in basso a destra di norma chiamata anche Sistray Accanto all'orologio A cosa serve questa sezione? Naturalmente a notificare qualcosa Un'allerta, l'avvenuta installazione di un programma, l'arrivo di un'email, il rilascio degli aggiornamenti di un programma o del sistema operativo Lo stato di connessione alla rete, eventuali suoi problemi, l'avvenuto collegamento di una periferica USB e quant'altro in base ai programmi che ha installato In pratica la visualizzazione ti creerà un'informazione in più Non è possibile definire a priori quale icone saranno presenti in quest'area ma più o meno uno standard accomuna le ultime versioni dei sistemi operativi della Microsoft Alcune saranno icone e notifiche relative al sistema operativo, altre sono legate al programma che le ha installate e quindi una disinstallazione del programma le rimuoverà Subito dopo che hai terminato l'installazione del sistema operativo, le icone non saranno tutte visibili ma ne compariranno soltanto alcune Potrai visionare le icone cliccando sulla doppia freccia, in questa posizione qui, in modo da rendere visibili le icone dell'area nascosta Altre saranno immediatamente visibili A tuo piacere potrai spostare le icone dalla micro-sessione dell'area delle icone nascoste a quelle visibili e viceversa Cliccando semplicemente sull'icona che vuoi spostare tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinarla dove meglio credi Il numero di icone nell'area varia in base all'utilizzo che ne farai del sistema operativo, quindi tanti più programmi installerai, tante più icone saranno posizionate in quella zona Sottolineo però che non tutti i programmi installati vanno a posizionare delle icone nella Sistray Installando un programma ad esempio potrebbe posizionare una icona proprio in quella zona Il classico esempio dei programmi di sicurezza o ottimizzazione Come vai a cambiare le impostazioni? Innanzitutto dovrai accedere al pulsante icone area di notifica presente sul pannello di controllo per poter avviare la sezione Oppure trovi il pulsante personalizza proprio accanto alla sezione delle icone nascoste Quindi cliccando sopra si aprirà una sezione che fra breve andremo a visionare Oppure ancora alternativa oltre a quella per passare dal pannello di controllo E' cliccare con il pulsante destro del mouse in una zona vuota più o meno dell'area di notifica E individurai dalla lista del menu che si presenterà la sigla personalizza icone di notifica La schermata che si presenterà ti mostrerà le icone potenzialmente visibili nell'area di notifica Ed accanto al nome di ognuna trovi un piccolo menu a tendina che evidenzia tre possibili modi di notifica Che sono mostra icone di notifica in questa sezione In base al pulsante che andrai a selezionare si presenterà un menu Altra possibilità nascondi icone e notifica e infine mostra solo notifiche Selezionando la prima opzione l'icona di quel dato programma sarà sempre in vista E ti allerterà quando una sua azione determinerà una funzione tale da comunicare un evento La seconda opzione nasconde invece sia le icone sia le notifiche Quindi non solo non vedrai l'icona a vista ma dovrai ricercare tra quelle nascoste Se vorrai interagire con il programma relativo La terza opzione nasconde l'icone ma ti allerta di eventuali notifiche da parte del dato programma Mostrandosi a schermo quando si presenteranno Dopo aver scelto l'una o l'altra opzione clicca naturalmente sul pulsante ok in basso a destra Per far acquisire tali impostazioni per ogni icona, per ogni programma Oppure cliccando sul pulsante annulla rigetterai tale impostazione In basso a sinistra invece trovi una casella di spunta Che ti permetterà di selezionare o meno la possibilità di mostrare sempre tutte le icone e le notifiche Sulla barra delle applicazioni quindi non ci saranno più icone nascoste Infatti impostando tale scelta si inibiranno i campi relativi al menu a tendina Che ho appena descritto proprio perché le icone saranno sempre tutte a vista nella Sistray Il pulsante invece ripristino del comportamento predefinito delle icone Riporta le impostazioni ai valori definiti dal programmatore, dalla Microsoft Un ultimo pulsante in questa zona invece è chiamato attiva o disattiva icone del sistema Ciò ti permetterà di accedere ad una nuova sezione In questa nuova sezione potrai disattivare o attivare alcune icone del sistema operativo Come quelle dell'orologio, quelle del volume, quella della rete, quella dell'alimentazione e infine del centro operativo Infatti accanto ad ognuna di queste icone e quelle che eventualmente troverai Potrai selezionare un menu a tendina che presenterà due possibilità attivo o inattivo Che abiliteranno o disabiliteranno la visione dell'icona che avrai selezionato Quindi ripilogando la prima opzione attiva la visualizzazione dell'icona relativa Mentre la seconda ne inibisce sia la visione sia le notifiche Anche in questa finestra c'è il pulsante ripristino del comportamento predefinito dell'icone E riporterà tutto al valore predefinito dalla Microsoft Al termine ricorda, clicca ok o annulla per accettare o rifiutare tale impostazione Una volta definito il tutto potrai interagire con le icone presenti nella Sistray in vario modo Potrai andare a visionare quanto trattato già nella lezione 61 oppure nel rispettivo video tutorial In tal unicasi, cliccando col pulsante sinistro o destro del mouse Potrai accedere a un menu a seconda del programma sul quale cliccherai E potrai selezionare azioni come la chiusura del programma, l'apertura dello stesso, scegliere alcune modalità o impostazioni operative del programma stesso o avere informazioni generiche Guter, come detto, appena hai installato il sistema operativo La zona delle notifiche si presenta più o meno come questa sezione Noterai una sezione in cui le icone saranno in vista con icone variabili in base al sistema operativo e programmi che hai installato E una zona nascosta Cliccando su questo pulsante potrai visionare le altre icone nascoste E cliccando su questo potrai entrare nell'area di personalizzazione Altra possibilità è cliccare con il tasto destro in questa zona Troverai il pulsante, la scritta personalizza, icone di notifica Cliccandoci sopra si aprirà sempre questa sezione Ultima possibilità, accedendo dal pannello di controllo Troverai il pulsante, icone, area di notifica Cliccandoci sopra si aprirà sempre la stessa zona Come puoi ben vedere, in ogni possibile icona c'è accanto un menu a tendina che dà tre possibili opzioni Mostra icone e notifiche, come in questo caso per quel che riguarda la rete Ecco qui l'icona Oppure nascondi icone e notifiche Quindi l'icona sarà posizionata nell'area nascosta e le notifiche non ti appariranno Oppure mostra solo notifiche Significa che l'icona pur essendo nascosta Comunque ti garantirà la notifica Qualora il programma o la funzione in uso della stessa Genererà una notifica che tu dovrai visionare Facciamo un esempio Con questa icona Nascondiamo icone e notifiche Possiamo decidere di rigettare le impostazioni Oppure farle acquisire Come puoi ben vedere, già l'icona si è trasferita in questa zona Potremmo far acquisire il parametro Riaccedendo alla sezione personalizza Possiamo andare a riposizionare un altro parametro per l'icona della rete In questo caso possiamo anche mettere solo le notifiche Qualora si presentassero notifiche come ad esempio la mancanza di accesso ad internet Saremo allertati Riposizioniamo tutta la visualizzazione Comprese le icone Come puoi vedere anche nell'altra icone Potrai scegliere tu come meglio credi in base alla visualizzazione Altra cosa che potrai fare E' spostare la posizione dell'icona Oppure posizionarla nell'area nascosta Direttamente da questa microsezione Normalmente io imposto questa visualizzazione In modo tale da mostrare tutte le icone e le notifiche Sulla barra dell'applicazione Quindi cliccando su questo pulsante Vedrai inibire la possibile selezione di questi menu E non ci sarà più il pulsante che mostrerà le icone nascoste Perché saranno sempre tutte in vista Altra sezione importante Potrebbe essere quella di ripristinare il comportamento predefinito delle icone Qualora tu non ricordassi più come le hai posizionate Ultima sezione Attiva o disattiva icone del sistema In questo caso tu potrai per ognuna di quelle icone presenti nella sezione Attivare o disattivare la visualizzazione Facciamo un esempio In questo caso l'orologio è attivo quindi è presente Posizionando sull'opzione inattivo verrà a scomparire Ricorda sempre che cliccando su ok farai acquisire Cliccando su annulla annullerai le modifiche precedenti Ripristiniamo tutto come predefinito E come detto mostriamo completamente tutte le icone Altra cosa che puoi fare Cliccando con il pulsante destro o sinistro Si genererà un menu che ti permetterà di interagire con il programma E quindi di volta in volta varierà in base al programma che avrai selezionato Potrai ad esempio mostrare il programma oppure uscire O interagire con lo stesso per variare i parametri Che ti consentiranno una miglior gestione dell'icona E quindi del programma correlato Bene ti rimando alla prossima lezione come sempre Per continuare il percorso didattico sul pannello di controllo Ora un forte saluto Ciao a presto Ragazzo e alla prossima Eaudio E jakie Eikh Ehim E E E E Grazie a tutti.